Il Comune, a prescindere dalle prescrizioni dell'AIA, garantisce che si assumerà la diretta responsabilità di valutare, se sia possibile o meno, il prosieguo dell'area a caldo nel rispetto delle condizioni ambientali dei rioni circostanti. Sono parole che Roberto Cosolini vergò nel proprio programma per la campagna elettorale del 2016. Il senatore Francesco Russo le utilizzerà la prossima settimana durante una direzione regionale del Partito Democratico, inizialmente convocata per il 13, durante la quale verrà discussa la sua partecipazione qualche giorno fa ad un incontro fra alcuni parlamentari triestini e le associazioni ambientaliste sotto la sede della regione per affrontare il caso Ferriera. Fra l'altro Russo, beccandosi una buona dose di contestazioni, non aveva firmato una petizione proposta da no smog e fare ambiente per arrivare alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. La presenza di Russo quella mattina in quel consesso non è andata giù a la presidente della regione Serracchiani, che diciamolo un po' arrabbiata, ha definito il parlamentare triestino un pierino, da qui la decisione di sottoporre Russo ad una sorta di processo politico, cui Russo si presenterà attaccando. Se necessario, scrive il senatore, mi sottoporrò anche ad una verifica romana, ma durante la prossima direzione presenterò io un ordine del giorno per chiedere al PD quale sia la linea di azione su Servola. Continuare il percorso finora intrapreso per arrivare alla chiusura dell'area a caldo, oppure prendersi la responsabilità di affermare che l'area sarà bonificata, ma non chiuderà. Coerenza, trasparenza e coraggio sono le tre cose che i cittadini ci stanno chiedendo, conclude Russo. E se nel gergo politico del 2017 lottare per questi tre valori per qualcuno significa fare il pierino, rivendico con orgoglio che per me è l'unico modo serio di fare politica.